E' la logica conseguenza di chi non accetta un ricatto e resta a casa senza lavoro. Sono le parole di Enzo Palladino, 52 anni, infermiere del reparto di endoscopia digestiva all'ospedale di Torrette di Ancona, ufficialmente sospeso dal servizio per aver detto no al vaccino anti-covid. Una battaglia che Enzo porta avanti ormai da mesi e che lo vede in prima linea contro l'obbligo imposto dal governo anche attraverso il Laisa, il sindacato dei lavoratori indipendenti della salute di cui è presidente. E' stato ufficialmente sospeso, come giudica questo provvedimento? Ma è la logica conseguenza, è normale, la normativa stessa prevede che chi non si vaccina viene eseguito il relativo accertamento da parte dell'Asur e quindi l'ordine provvede alla comunicazione, è tutto nella norma, quindi è la logica conseguenza di chi non accetta un ricatto e resta a casa senza lavoro. Ha ricevuto diverse critiche ma anche tanti attestati di vicinanza in questi mesi? Sì, fortunatamente fanno più piacere gli attestati di vicinanza, però si guardano anche con sospetto le critiche. Sì, il popolo italiano è diviso a metà, ma soprattutto è diviso a metà in base a una certa mancanza di cultura o ignoranza, vale a dire c'è il pensiero, la possibilità di pensare che un sanitario vaccinato sia, dia sicurezza per il contagio e un sanitario non vaccinato sia un vero e proprio pericolo per i pazienti. Questo non è vero, gli studi lo stanno confermando e la parte logica della norma praticamente non ha più senso. Oggi non ha più lo stipendio, come fa adesso a vivere e quale attività o lavoro intraprenderà? Lo stipendio innanzitutto farò una dieta, quindi farò a meno dello stipendio e mi darà una mano. No, sono in buona sostanza un mese senza stipendio perché fino a settembre ho lavorato, quindi a ottobre consumerò lo stipendio di settembre, a dicembre ci sarà una quota della tredicesima, ci sarà un vuoto a novembre ma si sopravvive. Il lavoro che farò io spero di continuare a fare l'infermiere, poi ci sono tante altre possibilità, tante altre cose, io ho un diploma pure da ragioniere, perito commerciale e programmatore, ho avuto un escursus anche da barman, poi credo che non trova lavoro chi non vuole lavorare. Poi abbiamo sempre il reddito di cittadinanza, quindi se resterò senza lavoro prenderò circa i quattro decimi dello stipendio che prendevo prima senza lavorare. Quali azioni avete intrapreso come sindacato? Principalmente due, dirette a due organi, uno il TAR della Regione Marche e un altro stiamo elaborando un ricorso al Tribunale Ordinario in funzione di giudice del lavoro, naturalmente uno contro o meglio avverso il provvedimento dell'Asur e un altro avverso i provvedimenti del datore di lavoro, hanno dei presupposti diversi e hanno delle finalità diverse. Ecco, e dal 15 di ottobre poi che cosa succederà? Il 15 ottobre è una data molto curiosa perché i lavoratori hanno a disposizione un'arma importante, vale a dire che previa comunicazione possono non presentarsi sul posto di lavoro, certo perdono la retribuzione per i giorni in cui non si vogliono presentare, ma al tempo stesso non perdono il posto di lavoro e non sono assoggettati a sanzioni disciplinari. Le sanzioni disciplinari si possono verificare quando il lavoratore vanno da 600 euro a 1.500 euro, quando si presenta sul posto di lavoro, anzi la normativa il 127 parla di luogo di lavoro e non è in possesso del Green Pass oppure non lo esibisce. È un'opportunità di vendetta, se così vogliamo, anche per quelli che sono stati costretti al vaccino perché pure loro, comunicando di non esibire o di non possedere il Green Pass, possono non presentarsi al lavoro. E quindi ci può essere l'occasione vera e propria di manifestare un dissenso da parte di questi operatori che hanno rifiutato dapprima il vaccino e successivamente il Green Pass. Quindi lo sciopero diventa un'arma molto secondaria perché mira a contemperare i diritti della salute con quello dello sciopero. In questo caso l'astenzione dal lavoro, prevista tra l'altro per norma, quindi lo Stato credo che se abbia riletto quello che ha firmato, prenderà provvedimenti nei prossimi 3-4 giorni. Grazie. Grazie.